Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui al Tartaruga di Macerata e abbiamo l'onore di intervistare Mr. Rain Ciao a tutti Dici, chi è Mr. Rain? Allora, Mr. Rain è un ragazzo che si è costruito da solo ha cominciato a produrre, a suonare il piano, la chitarra attraverso i tutorial su internet, a girarsi video a prodursi al 360 gradi quindi è una persona che si è costruita un po' da sola Dici, com'è nata la tua passione per la musica? Allora, è nata nel 2009 circa io ho sempre ascoltato Eminem e ho deciso di scrivere qualcosa di personale e ho cominciato un po' per gioco e ho visto che c'è stato un buon riscontro e fortunatamente questa mia passione è diventata il mio lavoro quindi le cose sono venute man mano, un po' col tempo Penso che sia anche un po' un sogno che si avvera Assolutamente, è il mio più grande sogno quindi fare questo è davvero una gioia E dici, c'è un artista o un rapper a cui ti sei ispirato particolarmente? Allora, due persone sono sono partito ispirandomi un sacco a Eminem perché sono cresciuto con lui Allora, circa quattro anni fa poi ho scoperto questo nuovo artista di nome McLemore e da dimmi è proprio cambiata la percezione che avevo di musica e credo che ora lui sia il mio punto di riferimento quindi McLemore Anche come stile proprio? Esatto, sì, canzoni messaggio che vuoi lanciare nelle canzoni perché è importante avere un tuo messaggio e sì, lui Nella tua carriera hai avuto la possibilità di collaborare con grandissimi artisti qual è delle collaborazioni, quella che ti ha dato di più? Allora, ho collaborato con Vacca ho collaborato con Osso e sicuramente la collaborazione con Osso mi ha dato un po' di più perché comunque siamo amici da da praticamente quando abbiamo quattro anni cinque o sei anni È un percorso che avete intrapreso insieme praticamente? All'inizio sì poi ci siamo staccati poi ci siamo ritrovati e ora abbiamo l'intenzione di aprire questa nuova realtà questa nuova etichetta quindi presto news Se ne avessi l'opportunità con chi ti piacerebbe fare una collaborazione anche dei grandi artisti diciamo? McLemore assolutamente come rapper McLemore cantanti non saprei italiani, pop mi piacerebbe anche Marco Mengoni per dirti Ok, in particolare un po' come c'è Sì, sì mi piace come rapper italiani anche se non è molto del mio mondo mi piacerebbe molto Salmo e basta A tuo parere l'immagine è tanto importante quanto il talento per emergere in un settore come il tuo? Purtroppo sì Allora io ero partito non pensando all'immagine e purtroppo con il passare del tempo mi sono accorto che l'immagine davvero conta per il 70% al giorno d'oggi è veramente triste perché dovrebbero essere le canzoni a parlare non l'immagine e quindi sì conta ma veramente tanto Quindi anche questo un po' ti ha diciamo condizionato nel andare avanti nella tua carriera? Io sono sempre stato così non è che ho pensato da oggi mi costruisco questo personaggio da oggi in cominciò a vestirmi così io mi sono sempre vestito così quindi non è che ho curato la mia immagine io mi sono focalizzato sulle canzoni Penso che questo trasparia anche molto da appunto i testi Esatto sì assolutamente Nel rap game sappiamo che sono molto diffusi i cosiddetti dissing ok Hai mai avuto diciamo dibattiti o comunque discordie con altri per ora no per ora no in futuro non si sa però non sono un fan dei dissing anche se a volte li seguo solo che non sono un fan dei beef perché è una questione di essere di essere gelosi di qualcun altro perché per fare un dissing ti rode perché qualcuno fa più di te quindi secondo me ognuno dovrebbe pensare a fare il proprio percorso e non stare lì a pensare a quanto gli altri fanno in più di lui Sei riuscito a vincere il disco d'oro con la tua canzone Carry On Platino Platino? Platino e senza l'aiuto di alcuna casa discografica penso che questo ti abbia dato una soddisfazione grandissima raccontaci ho assolutamente vincere un disco di Platino credevo non fosse possibile infatti quando me l'hanno detto ero davvero spiazzato il disco di Platino io c'era Rave è il mio fedele compagno che mi ha aiutato a girare video io ricordo che eravamo nella sala di casa mia e ho aperto il sito della Fimi e ho visto il disco di Platino ho cominciato a saltare porca puttana non ci credevo è stata una soddisfazione grandissima sapere che un mio prodotto sia stato così tanto apprezzato dalla gente è una sensazione veramente indiscrevibile esatto adesso siamo quasi al Platino dei grandi non piangono mai quindi tra un po' festeggerò ancora quindi sempre meglio mi fa molto piacere appunto proprio i grandi non piangono mai ha riscosso un grandissimo successo da cosa hai tratto ispirazione per scrivere questa canzone? semplicemente è una lettera per mia madre perché mi ha aiutato molto mi ha cresciuto con quelle poche cose che aveva quindi mi sembrava giusto restituirle ciò che mi ha dato attraverso quello che so fare meglio ovvero una canzone quindi le ho dedicato questa lettera tutti i miei pensieri in un pezzo molto bello grazie adesso Mr. Rain dici quali sono i tuoi progetti grandissimi progetti per il futuro? visto che non potevo ancora dirlo però vabbè quindi col 2018 uscirà il mio album inizio anno adesso la data ufficiale non la so ancora comunque nei primi mesi album, tour, etichetta nuove date, nuove artistiche spettacolare un grande saluto allo staff Euphoria al Gran Galà Magazine e Mario di Radio Android wow buona io Grazie per la visione!